Musica Ciao ragazzi sono Limoff e bentornati sul mio canale Oggi ragazzi sono qui per fare un video Su Rainbow Six Siege con Esagüira Che cazzo è che mi ha sparato? Tua madre deve esplodere Ho 40 di vita, bellissimo Siamo nella mappa Clubhouse C'è un drone che vorrebbe trollare ma non l'ho capito Cazzo E come si fa a mantenere la sola Oh la doppia Porca tre perché non ha switchato Ok Buona Comunque ho aggiunto un pochino di qualità nel video Perché ho messo una luce che mi spara flash Stanno giù? Stanno in cappella Andiamo nel garage Si Spacchi tu Dov'è che è morto? Alla C'è qualcuno comunque è pieno di sopra Andrè 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 Cappella Aspetta 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 C'era qualcuno qua Lo sapevo C'è sicuramente un'altra Pulse Ho pulse giù vedi Attendo levati da qua Raffae Raffae levati Perché? Raffae togli di che sto facendo quei bar Oh ma la prendete Tre Quattro Cinque Sei Sette Ote Nove Dieci Undici Ok ce l'ho fatta Ciao pulsino Con del bello Oddio Bellissimo L'aspettavo fuori Beh non è male in due round essere comunque a mille E ma qua chi barrica mia nonna? Eh eh Io ho barricato tutto Quello che potevo barricare ho barricato Oh cribbio Eh Perché stanno spaccando qui Che cazzo fate raga? No lui leva No E cazzo hanno preso lo stagio C'è qualcuno? È là Oddio Ah no che ho ucciso lo stagio Pensavo l'avessi ucciso One tap Di nuovo in camera da letto siamo Ci abbiamo perso Reinforced there Beh lei mi metto qua stavolta Easy one taps No è dentro C'è lo devo stare dentro Oddio quanta gente c'è dentro? Che cazzo Oddio sembrava un drone gigante Tanto troppi rumori qua sotto C'è qualcuno C'è qualcuno qua giù Ma che sono ancora a zero morti Eccomi sono Ma perché? Me la so sicciata Ok 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 Bitches 5-0 E non muore nemmeno un round Figa cotoletta Va bene ragazzi Quindi io spero che questo vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Ci vediamo al prossimo video Da Zetalimo Fai tutto No Quindi io spero che questo vi sia piaciuto Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando Ascendendo i mi piace Sociale in descrizione Insieme al canale della mind Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Oh mio dio Porca draia Oni da non mi sto c'è